Prende forma la realizzazione della cittadella del basket che questa mattina ha visto l'approvazione in giunta del progetto esecutivo della struttura che il comune di Pesaro realizzerà a pochi metri dall'impianto Facchini fra via Togliatti e via Paganini. Progetto esecutivo di un edificio a due piani che diventerà centro federale della pallacanestro in cui sarà realizzata una nuova palestra, un nuovo blocco servizi spogliatoi e 100 posti auto a servizio dell'intera area sportiva di Villa San Martino. Un intervento da 4 milioni di euro che ha ottenuto il finanziamento del PNRR Sport e Inclusione. Il cronoprogramma prevede che il comune entro il 31 marzo aggiudichi i lavori alla ditta che realizzerà una palestra al servizio sia della federazione italiana pallacanestro che la userà come palazzetto per stage iniziative sia della carpegna prosciutto basket Pesaro che la utilizzerà come campo di allenamento. L'intera struttura rispetterà i requisiti necessari per essere omologata dalla FIBA e diventare un centro federale di livello nazionale e internazionale pronto ad ospitare competizioni e appuntamenti. Una cittadella del basket e dentro una cittadella dello sport visto che in pochi metri ci sono campi da calcio, piscina e a breve anche il nuovo parco avventura che inaugurerà il 3 di aprile.